Quello che noi abbiamo cominciato 11 anni fa, oggi, è parte obbligatoria del Piano Prevenzione Nazionale. Quindi abbiamo visto lontano già 10 anni fa, quando abbiamo iniziato questo percorso. Oggi c'è bisogno di diffondere la cultura dell'igiene, la cultura dell'alimentazione, la cultura della protezione di se stessi, sin dal giorno in cui i ragazzi cominciano ad interfacciarsi con il mondo esterno alla famiglia. Quindi dalla scuola primaria alla scuola, come una volta veniva definita, media, alle scuole superiori, io credo che è importante ripartire con semplicità dalla cura di se stessi e dal rispetto delle regole igienico-sanitarie di base.